Nuove forme di mobilità nelle nostre città, dalle biciclette ai monopattini, i monopattini elettrici, è una giungla di norme più o meno adeguate e soprattutto rispettate, che creano o potrebbero creare problemi di sicurezza. Da qui la necessità di una maggiore formazione, in particolare per i nuovi guidatori dei monopattini elettrici, ed è questa la richiesta di cui parliamo oggi con il segretario nazionale delle autoscuole UNASCA, Emilio Patella. Benvenuto. Grazie. Qual è la vostra richiesta? Su quale necessità vi concentrate per fare maggiore formazione, in particolare per chi guida i nuovi veicoli monopattini elettrici che stanno ormai sempre più frequenti nelle nostre città? Allora, cerchiamo soprattutto di far conoscere il veicolo e di far capire che è una forma di mobilità che in altri paesi esiste già da tempo ed è molto diffusa, quindi non è da demonizzare come invece molti fanno, ma allo stesso tempo il principio principale non è un giocattolo. molti lo prendono come tale perché è piccolo, leggero, si può mettere in un zainetto, si può trasportare, e invece è uno strumento utile ma assolutamente molto pericoloso. Ma esistono già delle regole nel nostro codice della strada che… No, no, esisteva un decreto ministeriale che imponeva tutta una serie di sperimentazioni più che altro, dalle quali puoi trarre le regole. Dopodiché nella legge finanziaria, che c'entra come cavoli a merenda con la sicurezza stradale, è stata introdotta una norma che li ha equiparati, ipso fatto, alle biciclette. Questo vuol dire che da questo momento la bicicletta può andare dovunque, tranne che l'autostrada ovviamente, senza patente, senza regole, senza casco, o meglio, con alcune regole tipiche delle biciclette che però normalmente anche i ciclisti non conoscono. Cosa sarebbe necessario fare per garantire una maggiore sicurezza stradale, sia a chi porta i monopattini, sia ai pedoni, alle stesse automobili? Beh, intanto che le regole vengano codificate, c'è in ballo la modifica del codice della strada, spero che sia l'occasione giusta, anche se purtroppo sono sette anni che stiamo aspettando la modifica del codice della strada. Detto questo, ci sono secondo me due punti di vista che valgono in tutta la circolazione stradale, quindi questo è l'esempio classico. Uno è quello di chi guida il monopattino e l'altro è quello degli altri utenti che vanno dai pedoni, che si sentono in questo momento minacciati, agli automobilisti che probabilmente non li considerano. Dal punto di vista di chi guida il monopattino, abbiamo detto, non è un giocattolo, è un veicolo comodo, che permette di raggiungere praticamente qualsiasi destinazione, però è un veicolo poco stabile, con due rotelle così, quindi non offre molte garanzie, anche il punto d'appoggio è limitato. È maneggevole in rettilineo, lo è molto meno quando si effettuano curve o spostamenti rapidi, pensare a evitare un tombino piuttosto che un automobilista distratto che apre una portiera. Quindi da questo punto di vista, chi guida il monopattino deve fare molta attenzione, ma soprattutto si deve proteggere. Quindi deve fare della formazione, deve fare dei corsi? Sicuramente non sono obbligatori, ma un minimo di attenzione è meglio che ce l'abbia. E noi come autoscuole abbiamo debuttato l'altro ieri a Sanremo, con i primi piccoli corsi, ma di pochi minuti proprio. Abbiamo fatto un'amministrazione di educazione stradale, insieme a Polizia, Carabinieri, Vigile del Fuoco, Volvo con gli autotreni, eccetera, e noi abbiamo dedicato lo spazio al monopattino. Quindi abbiamo fatto vedere ai ragazzi come funziona, quali sono le protezioni minimi da indossare, anche se non obbligatorie, un caschetto, ci va bene, qualcosa di rifrangente per farsi vedere, soprattutto nelle zone buie, in galleria, oggi sera, e poi non è obbligatorio, ma io le metterei anche dalle ginocchiere o comunque dei paragomiti, perché è facile cadere o urtare altri ostacoli. Avete fatto delle richieste ai legislatori o alla politica? Ai legislatori abbiamo fatto delle richieste, non solo sui monopattini, in verità ci sono anche delle questioni che, ripeto, ci stiamo trascinando da sette anni. Una particolarmente curiosa, riguarda veicoli un pochino più evoluti, ma anche loro fanno parte della mobilità sostenibile, moto e ciclomotori. Cioè? In Italia c'è una situazione a cui non crede nessuno, ci sono due norme del codice che contrastano tra di loro, per cui se un ragazzo vuole imparare ad andare in moto per sostenere l'esame o anche con il ciclomotore, quindi a 14 anni, si deve esercitare in zone poco frequentate. E l'esame, dice la norma europea, anche italiana, lo deve fare guidando su qualsiasi tipo di strada, in diverse condizioni di traffico. Quindi è contrastante. Se per esempio guida una moto anche in autostrada, allora come fa a esercitarsi nel giardino di casa e poi sostenere l'esame in quella situazione? Sì, è un'altra contraddizione o aspetto paradossale. Dal gennaio di quest'anno, per un effetto della sentenza europea, alcune prestazioni di autoscuola sono state soggettate a IVA del 22%, e in particolare le patenti auto, patente B. Ora l'agenzia di entrate sta dando un'interpretazione molto estensiva e quindi vorrebbe estenderlo anche alle patenti A e alle patenti del ciclomotore. L'aspetto paradossale è che ha un ragazzino di 14 anni, da una parte si dice che si deve formare, deve spendere soldi e tempo, lui e la famiglia, per la formazione, dovremmo incoraggiarla questa formazione e poi andiamo a applicare il 22% di aumento ingiustificato. E questo è assurdo. Quindi sostanzialmente, per concludere, ci sarebbe bisogno di una riforma complessiva che tenesse anche conto dei nuovi mezzi di trasporto? Direi di sì. La formazione del codice strato non esiste, quindi va inserita. La formazione è il primo livello. Poi è chiaro che esistono anche le sanzioni che devono essere applicate, esiste la punizione, il ritiro della patente, la revoca della patente per chi fa cose estremamente gravi. Però se non parliamo con la formazione, le pene da sole non riservano.